eccoci non so se sono collegato o meno perché lo faccio col cellulare che non ho testato diversamente dal computer se mi date un segnale sulla bacheca che mi si vede io continua diversamente interrompo e aspetto di recuperare un computer visto che il problema che mi si è presentato è stata la morte del computer va beh non vedo nessun nessun cenno spero di 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 esserci comunque va beh ha una una strana impressione parlare in questa maniera non ci sono molto abituato mi sembra di parlare allo specchio normalmente parlo con davanti davanti un pubblico guardandolo negli occhi e provando l'emozione riesco a capire se quello che sto dicendo ha un senso se vengo recepito no qui è tutto virtuale e va beh facciamo anche questa esperienza io quello che tento di fare questa questa sera non è un'esposizione informale un'esposizione che cerca di utilizzare il linguaggio e facebook non sono qui a parlare per degli eruditi non hanno certamente bisogno di un linguaggio complesso sono qui a tentare questa questa presentazione io tra l'altro ho sempre avuto l'idea che il presentare libri è una delle cose più difficili da fare presentare un libro anche guardando le trasmissioni che sono dedicate alla presentazione di libri mi viene in mente non so per esempio quella di coraggio corrado augas mortifera noiosa come anche tutte le altre rubriche ma del resto è effettivamente difficile presentare un libro non è come presentare un film un film a un trailer e il trailer riesce nella sua nella sua esposizione a dare un'idea un libro è un libro è più complesso non riesce a riassumere se sei un romanzo non puoi rendere la lo stile rendere il contenuto le modalità c'è un saggio come fai a riassumere faccio un esempio che so di essere tempo di edegar 600 spaccapagine si ci puoi girare intorno puoi cercare di spiegare che cosa voleva dire l'autore ma ma chiaramente lo sminuisci perché se questo ha impiegato ha avuto bisogno di 600 pagine per esporre il suo pensiero vuol dire che servivano 600 pagine che non puoi metterti quindi comunque la giri la giri ho sempre trovato che la presentazione di un libro è abbastanza complessa anche quando siamo di fronte a oratori di alto rango capaci di una buona retorica capaci di aprire parentesi e chiuderle senza perdersi è difficile effettivamente presentare un libro e mi sono sempre domandato come si potrebbe fare come quale soluzione quale stile quale metodo si potrebbe si può eventualmente trovare perché ma da sé voglio dire pensate a uno scrittore molto improbabile non so come Di Maio che hanno sigaretti Salvini possono scrivere un romanzo e poi se hanno la fortuna di avere un Alberto Lupo un Gasman un Carmelo Bene un Giancarlo Giovannini che ne legge una pagina questi vanno sicuramente in testa alle classifiche ma è per la capacità e per il talento dell'attore che lo declama che lo legge non certo per il contenuto quindi mi ripeto io credo che sia sempre un'impresa molto molto ardua quella di presentare un libro perché non si può mai essere esaustivi e alcuni proprio è praticamente impossibile però devo dire questo io sono ho come seconda casa o come casa del cuore la corte dei Brut che forse molti di voi conoscono questa corte a cui io tra l'altro a suo tempo ho dedicato un romanzo che non so se si vede che è questa la corte dei Brut narrando le peripizze di un certo Berto che per certi versi poi mi sono state anche fatali comunque sia lì alla corte dei Brut da anni Matteo Inzaghi un giornalista un giornalista televisivo molto esperto di cinema tiene una presentazione, tiene in piedi degli eventi che si chiama terzo tempo la sua capacità di intrattenere il pubblico è molto singolare, molto particolare cosa fa? In pratica si utilizza si stralci del film però tutta la sua narrazione è una narrazione di contorno è tutto ciò che praticamente non compare o non si sa della storia di quel film della storia degli attori, di come lo sceneggiatore è arrivato perché ha fatto una cosa piuttosto che un'altra perché ha scelto un attore piuttosto che un'altra ma poi tutte le cose che stanno dietro reggono quel film e ho trovato quella esposizione, quel modo di esporre quel modo di presentare un film particolarmente piacevole tra l'altro una delle ultime presentazioni che ha fatto la tenuta con Claudio Siniscalco che insegna all'università a Roma proprio esperto di cinema, pure lui ha scritto diversi libri sull'argomento e hanno in due tenuto, hanno presentato, ci hanno parlato del deserto dei tartari di Buzzati è stata un'esperienza veramente grandiosa e questo per dire che cosa? per dire che forse possiamo tentare non so, questo è un po' un esperimento di presentare dei libri stando anche un po' fuori da quello che è l'interno, il contenuto del libro certo non si può fare a meno poi di affrontarlo e quindi nel merito in qualche maniera bisogna pure entrare io ho anche provato un piccolo esperimento su questo qualche giorno fa parlando di Cittadella ho messo lì quasi in poesia il momento in cui è nata in cui sono venuto in contatto per la prima volta con questo libro e come poi sono diventato editore rimbalzando da una casetta rossa all'altra cioè dal carcere fatto di mattoni rosso una casetta molto particolare, diciamo una casetta del sorriso dove ho iniziato l'opera dove ho iniziato a impostare l'edizione che io poi ho effettivamente curato l'edizione integrale pensando poi, perché poi la fantasia galoppa, la casetta rossa di D'Annunzio dove Guido Keller andò a prendere il vate per condurlo, per guidarlo per costringerlo alla famosa marcia di Ronchi tra l'altro quella casetta rossa lì era stata precedentemente lo studio di Antonio Canova in cui in qualche maniera molto era lontana per parte di madre sono pure collegato per via parentale, diciamo così e poi la quarta casetta rossa che è la corte dei Brut è anch'essa una cascina fortificata fatta di mattoni dove quel libro poi alla fine l'ho presentato per la prima volta come vedete si possono raccontare, si possono imbastire delle storie dietro di un libro al di là del libro e poi entrare nel merito anche questo libro di cui vi parlo questa sera che è Tradizione e oenichilismo, questo qua che effettivamente ha un titolo che può sembrare quasi essere quasi uno scioglilingua, un po' anche complesso per chi non ha dentro le cose, cioè per chi non sa che cosa è tradizione non sa che cosa è anichilismo bene anche questo libro ha una sua storia ha una sua storia che si origina nel 1987 che io credo valga la pena per certi versi di raccontare prima appunto di arrivare al contenuto questo libro qui è stato, mi è stato istigato se così si può dire mi è stato, è nato a seguito di un articolo che mi portò Omar Vecchio era un articolo destinato secondo lui ad apparire sulle pagine di Orion la rivista che allora dirigevo, stampavo, diffondevo mi sono sempre trovato in più vesti come editore, scrittore, stampatore, diffusore e anche in quella circostanza, anche per quanto riguardava Orion più o meno era così mi portò questo articolo e me lo diede con un mi sembrava che era timoroso nel darmelo che aveva quasi un po' di soggezione nel darmi questo articolo qua e in effetti io non lo lessi subito lui veniva a Saluzzo da me con Marco Battarra a volte anche con altri passavamo le nostre giornate su per le colline del Saluzzese parlando dei massimi sistemi o anche chiacchierando, frequentando delle trattorie ce la passavamo bene in una certa maniera e quell'articolo lì lo misi un attimo da parte e si chiamava e aveva come titolo letture e riletture di Cavalcare la Tigre qui vale la pena anche prima di entrare nel merito dell'articolo e spiegare un po' perché ai più probabilmente Omar non dice nulla Omar Vecchio a me invece ha detto e dice tutt'oggi moltissimo è stato un legame molto profondo Omar Vecchio è morto nell'estate del 2000 scalando il dirham pack in Pakistan travolto da una valanga di neve era un ragazzo che io ho conosciuto nel 1984 nell'occasione di un trekking che abbiamo fatto intorno al Monviso un trekking di otto giorni me lo portò e me lo fece conoscere Marco Battara di cui lui frequentava l'allora Bottega del Fantastico la libreria era il classico intellettualino nell'aspetto lo vedevi gli occhiali per quanto fosse vigoroso poi come si è subito rivelato un tipo abbastanza energico aveva la particolarità che proveniva diversamente dal nostro gruppo primario di Orion da un ambiente di sinistra ma non una sinistra radicale era modo suo era un bohemian per certi versi frequentava la brera di allora che era la brera degli artisti dei lippi e dei poeti frequentava con alcuni amici un paio dei quali sono finiti male uno morto suicida l'altro morto alcolizzato il secondo in modo particolare era un grande intellettuale aveva insegnato negli Stati Uniti ma aveva poi alla fine scelto di fare la vita del clochard del barbone era anche un poeta e Omar gli dedicò lui racconta che lo nascondeva nella nella sua cantina nel saputo della mamma per dargli un po' di ristoro soprattutto d'inverno e quando è morto nelle cose che lui riuscì a recuperare questo uomo aveva uno zaino in cui scriveva dei brogliacci delle poesie delle intenzioni di libri gli ha dedicato questo magnifico libretto sono pochissime pagine non conosciuto antologia minima si chiamava Gino Porchedu sono due persone che lo segnavano lo segnarono molto c'è ancora da dire su Omar che aveva una mamma cattolicissima molto molto fervente lo indirizzò addirittura al seminario e come Omar osava dire sorridendo scoprì in seminario che Dio è morto era anche interessato molto interessato all'arte della cinematografia infatti si riuscì a farsi un piccolo studio a Leoncavallo uno studio dove lui produceva dei filmati io li ho nelle vecchie cassette un giorno o l'altro spero di poterle riversare in qualche maniera perché sono veramente fantastiche sono delle performance incredibili e soprattutto lui aveva scoperto il dadaismo che però del dadaismo dell'art di questa avanguardia artistica sapeva quello che forniva l'ambiente culturale normale insomma voglio dire quello che girava nelle riviste nelle pubblicazioni di uso comune non che fossero molto diffuse però quelle che giravano così erano arrivò anche a pubblicare una rivista che si chiamava 191 poi fece un viaggio un viaggio a Parigi a Parigi su una bancarella o una vecchia una libreria di antiquariato trovò un libretto di Evola un libro di Driuil Rochelle e questo libretto di Evola il paesaggio non ricordo il titolo in questo libretto comunque trattava di Evola trattava del dadaismo scoprì così che esisteva questo strano personaggio questo che si chiamava Julio Sevola che aveva lui portato il dadaismo in Italia era amico di Tristian Zara il fondatore del dadaismo il dada vuol dire niente era un qualche cosa collegato così vogliamo dire da un punto di vista artistico a una riformulazione del nichilismo e Evola stesso era un artista produsse tra l'altro dipinse e scrisse articoli sul dadaismo e tra l'altro i suoi quadri quando la destra contava delle belle menti delle belle intelligenze come era Marzio Tremaglia si riuscì a fare a Milano addirittura una mostra delle opere di Julio Sevola una mostra di cui io poi pubblicai per conto della regione Lombardia e della fondazione Evola questo libro qua e grazie a Tremaglia a Milano si poterono vedere i quadri di Julio Sevola si poterà tenere delle conferenze delle rappresentazioni e spiegare comunque per non dilungarmi troppo è così che Omar viene a conoscenza dell'esistenza di Julio Sevola e ovviamente da lì passa alla ricerca degli altri testi passa alla ricerca degli altri testi e fatalmente a un certo punto arriverà anche a cavalcare la tigre la peculiarità di Omar Vecchio in questo contesto perché vi ho detto tutte queste cose ho fatto tutta questa parentesi è che per quanto mi riguardava era la prima volta che io venivo in contatto con una persona che proveniva da un'altra parte proveniva da un ambiente totalmente diverso dal mio da quello in cui io mi sono originato quindi diciamo vagamente così se si può dire di sinistra un po' bohemian e che arrivava a Evola dopo aver ben letto introitato Nietzsche e Heidegger addirittura lui per poter leggere Heidegger compiutamente si illustriò a imparare il tedesco non so fino a quale livello comunque quando ne parlai con lui lui conosceva benissimo conosceva benissimo conosceva il tedesco e mi disse che molti passaggi di essere tempo li aveva letti in lingua originale quindi il punto fondamentale è questo mi trovai per la prima volta davanti a una persona che era arrivata a Evola attraverso Nietzsche e Heidegger mentre noi quelli della mia generazione sostanzialmente quelli che si erano rifatti in una qualche maniera a Evola erano arrivati a Nietzsche e Heidegger attraverso Evola l'avevano conosciuto proprio attraverso la sua lente la sua la sua interpretazione e l'interpretazione di Adriano Rumualdi che ci fece conoscere soprattutto Nietzsche o comunque l'interpretazione virgolette di destra di Nietzsche e la sera ha rientrato Marco e Omar a Milano io ho presi questo questo datilo scritto e mi accorsi di quanto eh era profondo questo scritto qua ma non solo era profondo eh Omar con molto garbo tentava una critica una critica una critica non è solito quando usiamo questo termine diciamo critica si pensa subito e si è subito portato a dire un qualche cosa che è contro che per critica un qualche cosa che ehm si discosta dalla cosa invece critica si intende anche un'analisi eh corretta eh del della della cosa che tu vai a considerare sia esso un'opera d'arte o uno scritto o un film o una rappresentazione teatrale leggendo questo questo scritto che poi comparirà nella prima edizione di tradizione e onichilismo che è questa fu questa del 1988 nel mentre io stavo facendo tra l'altro la composizione di un libro che credo si possa tranquillamente definire incredibile perché lo cominciò che aveva pubblicato quando lui aveva ventisei anni ma in realtà lo cominciò a scrivere quattro cinque anni prima io sono entrato in possesso dei suoi diari e ho visto proprio la genesi di questo libro questo libro che si chiama Essenza nichilistica dell'occidente cristiano va proprio ad indagare sull'origine del del nichilismo del perché si è generato in occidente e da qui si è diffuso e pone anche la domanda fondamentale se con il nichilismo muore solo la il dio dei cristiani o se invece la cosa è più complessa e su questo libro qui ne fa tutta la la storia e avendo questo dattilo scritto e nel contempo leggendo quanto lui scriveva qua in questo libro mi resi conto dell'importanza di questo di questo testo io giudicai che di che quell'articolo lì necessitava di essere cioè avevo due possibilità due strade o chiedere a Omar di ampliarlo di rendere un pochettino eh più corposo perché era sminuendo lo si sarebbe sminuito pubblicandolo solo come articolo all'interno di una di una rivista oppure avrei dovuto eh in ehm in qualche modo ehm affiancare a questo a questo testo ehm altri scritti eh chiedere altri interventi eh e decisi per questa seconda possibilità chiesi a ad Alessandra Colla che ha praticamente aveva una storia laureata in filosofia eh molto dentro nel pensiero filosofico medievale eh aveva una storia relativamente a quella che noi definiamo destra molto molto soft aveva frequentato la la nuova destra frequentava la nuova destra italiana in parte quella francese ma non era molto si era molto adentrata dentro nella nelle dinamiche di quella compagine ehm e quindi chiese a lei di trattare da un punto di vista eh filosofico i in essi ehm i collegamenti con questo scritto e poi mi rivolsi a Carlo Terracciano eh un altro personaggio qualcuno di voi a qualcuno di voi dirà qualcosa ad altri non dirà un granché sta di fatto che eh questi ehm due a due pezzi questi due interventi furono messi insieme a questo a questo mh mh articolo questo intervento di Omar ecco subito curioso notare una cosa mh che eh sia Alessandra Colla che eh Carlo Terracciano e come poi un una recensione di di Franco Freda messa in appendice eh trattano la questione della politia in cui poi dopo in cui poi dopo di cui poi dopo parleremo mentre Omar questa cosa qui non la tratta affatto tratta altre altre questioni sta di fatto che uscì questo questo primo libro qua questo questa edizione fatta in questa maniera qui con i mezzi che io allora avevo un incrocio tra un paracarri e una macchina da stampa comunque riuscivo riuscivo a a stampare e l'abbiamo stampato la storia vorrei chiudere la parentesi di di Omar a cui ho dedicato poi per chi fosse interessato un libro che ne spiega la genesi lo suo sviluppo perché è stato possibile recuperare parte dei suoi dei suoi diari e li ho pubblicati in questo libro qua nel 2001 cavalcare le vette non a caso un titolo significante poi capiremo anche del perché cavalcare le vette vi avevo detto che Omar quando io lo conobbi era essenzialmente un piccolo intellettuale cioè aveva il fisico di un intellettuale il portamento di un intellettuale lo era sicuramente beh intellettuale lo siamo un po' tutti usiamo un po' tutti l'intelletto e forse questa parola era una persona molto colta una persona che ehm privilegiava comunque la lettura ad altre cose anche se ad altre attività dopodiché farà un percorso molto particolare che lo porterà a frequentare l'associazione paracodutista a diventare un alpinista veramente provetto scalò da solo credo in inverno a parete nord del Cervino tanto per dirne una chi se ne intende un po' di montagna e di alpinismo sa di che cosa sto dicendo ma ovviamente non si limitò ehm non si limitò solo a questo di lui pubblicai poi anche una una specie di poema che bisogno di un uomo in armi e poi con una sua carissima amica Anna Lamberti Bocconi questo libro che raccoglie le sue le sue poesie questo è per chiudere la parentesi sono a vecchio perché ne ho parlato perché nel momento in cui io mi sono deciso ho cominciato a vagliare l'opportunità di ripubblicare di ristampare questo libro qua e la stavo vagliando sulla scorta della lettura del soggetto radicale libro di Dugin che ho pubblicato e nel comporlo nel leggere nel parlare con Alexander mi è tornato alla mente tradizione e onichilismo che per una serie di ragioni non leggevo non prendevo in considerazione da tempo però mi si sono accese delle lampadine e me lo sono andato a prendere ed io ho trovato una suggestione mi sono accorto che in quegli anni la nel 1988 noi avevamo già individuato alcuni fattori alcuni alcuni temi relazionandoci con Cavalcare e Lattiche che poi dopo Dugin sviluppa nelle sue opere soprattutto nel soggetto radicale e ho trovato in essi ho trovato delle anticipazioni fatte da noi magari alcune un po' naive però c'erano delle intuizioni che poi dopo da un punto di vista filosofico Alexander Dugin ha sviluppato e ben teorizzato ben sistemato nei suoi libri soprattutto nel soggetto radicale poi in Nomachia e negli altri che ho pubblicato e quindi mi sono subito detto questo libro andrebbe ripubblicato perché per certi versi snello le letture di questi due di questi tre interventi aiutano molto a comprendere e a creare il collegamento però qualcuno mi ha fatto notare che il prossimo anno il 2021 ricorre il sessantesimo anniversario della prima edizione di Cavalcare la Tigre e per un po' sono rimasto tentato di aspettare qualcuno mi suggeriva beh aspettiamo facciamo uscire in fondo questo è l'unico libro che era uscito che è uscito negli anni che affrontava il tema di Cavalcare la Tigre e lo facciamo uscire nel 2021 però sta di fatto che quest'anno è il ventennale della morte di questo mio carissimo amico di questo grande personaggio che era Omar Vecchio a fine luglio 31 luglio ricorre il ventennale e quindi ho detto ho pensato ho reputato giusto così come ho iniziato a rendere omaggio a Carlo Terracciano con l'intento di pubblicare tutti i suoi articoli a 15 anni non è un tutto tondo 15 anni non è come un decennale un ventennale un 50 o cent'anni ma insomma era maturato il tempo di rendere omaggio anche a lui così ho deciso in contemporanea visto che ero molto legato a tutti e due tutti e due erano presenti a quel famoso trekking intorno al Monviso di uscire con questo libro dedicandolo a lui nell'anniversario della sua morte nel ventennale della sua morte però non poteva più uscire così questo libro qua per quanto esaustivi quei tre capitoli nel frattempo nel frattempo sono maturate tante cose siamo andati avanti sono passati praticamente quasi 25 anni 22 anni e si matura ci si confronta si si cresce si è venuti in contatto con altre con altre menti brillantissime delle nuove generazioni che vengono avanti e allora mi sono rivolto ad altre persone per avere una seconda parte l'abbiamo tenuta distinta la prima parte poi tre pezzi con le appendici di allora e questa seconda parte a questa seconda parte hanno collaborato Dugin Francesco Marotta Andrea Scarabelli De Turis De Turis come sapete è il presidente della fondazione Giulio Sevola Scarabelli il vice presidente che cura molte di queste edizioni poi Giovanni Sessa e Luca Sinescalco questi hanno composto la seconda parte di questo libro hanno prodotto gli interventi che si occupano che appaiono nella seconda parte e quindi questa è la diciamo la storia la cornice di questo libro ma adesso senza andare molto molto distante un minimo di diciamo di di presentazione del contenuto del libro che cos'è Cavalcarella Tigre Cavalcarella Tigre io ho la prima edizione la prima edizione di cui io sono entrato in possesso su cui io mi sono formato entrai in possesso nel nel 1973 l'inizio della mia carcerazione questa edizione qua è proprio quella che mi ha accompagnato per tutti gli anni del carcere in cui periodicamente ho riletto e riletto successivamente sono uscite altre edizioni con con introduzioni molto pertinenti molto curate molto anche che poi si si facevano come dire forza di eh documentazioni di 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 baglio di articoli usciti successivamente a questo a questo libro eh e quindi la presentazione l'apparato di note tra l'altro Eva la usava pochissimo mettere note nei suoi libri in questo non ce ne sono quasi per dire no ehm questo libro qua di cui noi abbiamo pubblicato per cui noi abbiamo fatto il nostro intervento come riletture e ponendo una domanda tradizione e onichilismo e adesso vengo anche a spiegare il perché di questo interrogativo di questo titolo che eh scelsi io in realtà il titolo completo era appunto tradizione e onichilismo letture e le letture di cavalcare la tigre ehm non molto tempo fa nel corso di una presentazione mi pare che fosse proprio il soggetto radicale io mi trovai a parlare di Evola mi trovai a parlare di cavalcare la tigre alla fine del della presentazione eh il l'organizzatore mi fece notare mi disse una cosa che un po' mi lasciò interdetto ma solo fino a un certo punto mi dice guarda tu hai parlato di Evola però nonostante qua ci sono degli studenti universitari è un attore un autore che non tutti conoscono alcuni di questi non sanno neanche chi è e quindi tu hai dato per scontato eh che lo conoscessero e questo è uno dei problemi che a volte ci si si presenta quando eh si fanno presentazioni di libri che si danno per scontate alcune cose io per formazione eh per mia abitudine cerco sempre di considerare quelli che stanno un po' più indietro che quelli che stanno avanti quelli che stanno avanti non hanno poi tanto bisogno di spiegazione di di messa a punto di di parentesi eh sono già attrezzati hanno già i fondamentali quelli che stanno a metà o stanno più indietro invece necessitano ovviamente di essere messi al corrente le cose dunque la prima cosa da dire per chi non lo sapesse è chi è questo Giulio Sevola e qui servirebbe veramente una diretta di quindici sedici ore per raccontare Giulio Sevola come persona e come autore come pensatore come maestro anche se lui non voleva essere considerato tale e non voleva che fosse chiamato maestro no? Comunque per noi lo è stato per alcune di noi e ora come ho anticipato prima si si genera innanzitutto come eh artista come come dadaista ehm durante il periodo il ventennio fascista produsse di fu il direttore di alcune riviste fondamentale la torre collaborò a diverse riviste ma eh è conosciuto si fece conoscere soprattutto per un libro che aveva come titolo che ha come titolo rivolta contro il mondo moderno anche qui per poter parlare di rivolta contro il mondo moderno a parte la dialettica di un di un di uno scarabelli o di un deturris ci vorrebbero ehm ore in soldoni ehm Evola ci dice che esiste un mondo della tradizione al quale un mondo delle origini al quale si oppone il mondo moderno che ha come intenzione della la sua disgregazione cioè il lavorio del mondo moderno è disgregare quella che è l'ordine originario ehm la visione la concezione il modo in cui si sono espresse e si sono sviluppate le antiche civiltà è un libro uscito nel 1934 tra l'altro eh nell'anno successivo uscì in germania in tedesco dove in lingua tedesca pubblicato in germania e quindi questo fece conoscere Evole anche al mondo accademico intellettuale eh in germania questo è il libro eh diciamo più importante lui ovviamente ha prodotto tantissimi libri io dovrei anche non so per ricordarne alcuni il mistero del graal la metafisica del sesso del sesso gli uomini e le rovine la tradizione ermetica l'arco della clava gli uomini e le rovine la dottrina del risveglio l'introduzione alla magia yoga dalla potenza eccetera fu un un una persona che si occupò di vari argomenti ma fondamentale rimaneva questo eh questo rivolto contro il mondo moderno che dà una impostazione a cui molto particolare e il libro successivo per cui eh fu poi conosciuto mi sono dimenticato prima di un aneddoto quando mi è stato rimproverato di non aver approfondito di non aver specificato chi era Giulio Seuola durante quella conferenza durante quella presentazione io ricordo come venne io a conoscenza di di questo di questo nome di questo personaggio ero appena approdato negli ambienti del cosiddetto neofascismo e una pochi poco tempo dopo una delle prime domande che uno mi fece era ma tu sei gentiliano o evoliano? io di Evola non avevo quasi sentito il nome avevo sentito solo una buttada che era un mago che faceva volare le sedie stupidate che potevano avere circolo no? e non so per quale ragione pur non avendo letto ancora un rigo di Evola di un rigo di Evola mi dichiarai Evoliano no? questo per dire che se anche oggi ci sono dei giovani che non conoscono Evola così era anche per la mia generazione a fronte di ragazzi di studenti di militanti che ben conoscevano il pensiero di Evola in tutte le sue sfaccettature c'erano anche quelli come me che erano ignoranti abissali sul personaggio poi credo di essermi un po' rifatto sulla cosa sta di fatto che nel 1961 esce questo famoso libro Cavalcarella Tigre e Cavalcarella Tigre ha creato ha creato un problema o perlomeno non è che ha creato un problema sono sorti degli equivoci per delle letture probabilmente superficiali e un po' forzate non aiutava di certo la cultura dell'altra parte basti pensare che a un Furioliesi o a Ferraresi Ferraresi arrivò al punto di scrivere un libro in cui sosteneva che di sicuro le matrici stragiste erano da imputare alla destra radicale che si rifaceva Evola perché Evola avendo un pensiero aristocratico disprezzava di perciò stesso la plebe e non si faceva problemi quindi uno a a mettere bombe o fare strage questo era il delirio che girava ma se questo è il delirio che di cui erano fautori quelli dell'altro pensiero dell'altra cultura non di meno questo libro creò un problema nonostante l'avvertimento che si trova proprio all'inizio di questo libro Evola scrive esattamente il proposito di questo libro è di studiare alcuni degli aspetti per via dei quali l'epoca attuale si presenta essenzialmente come un'epoca di dissoluzione affrontando in pari tempo il problema dei comportamenti e delle forme di esistenza che in una situazione si fatta si convengono ad un particolare tipo umano questa accezione particolare tipo umano è una delle cose che assunta malamente creò uno degli ecluigi questa restrizione deve essere tenuta ben presente tutto ciò che diremo non riguarda un uomo qualsiasi dei nostri giorni abbiamo invece in vista un uomo che pur trovandosi impegnato nel mondo d'oggi perfino laddove la via moderna è in massimo grado problematica e parossistica non appartiene interiormente a tale mondo ne intende cedere ad esso e in essenza sente di essere di una razza diversa di quella della grandissima parte dei nostri contemporanei il posto naturale di quest'uomo la terra in cui egli non sarebbe uno straniero è il mondo della tradizione questa è la premessa del poi spiega il perché di questo titolo che cosa intende con questo titolo dicevola è questo un detto estremo orientale esprime l'idea che se si riesce a cavalcare una tigre non solo si impedisce che essa ci sia venti addosso ma non scendendo mantenendo la presa può darsi che alla fine di essa si abbia ragione in pratica sosteneva Evola sostiene Evola che il mondo moderno ha una potenza tale che non può essere affrontato frontalmente non può essere preso di petto come si potrebbe anche dire ma è necessario che questo tipo d'uomo questo uomo differenziato non introiti dentro di sé i veleni della modernità dell'uomo moderno ma pur non estraneandosi da esso riesca a cavalcarlo e non farsi conquistare questo ha generato l'equivoco di cui dicevo prima sulla questione della politica perché sembrava un suggerimento a distaccarsi da quello che era l'impegno l'impegno politico mentre alcuni consideravano l'Evola esoterista l'Evola quindi si ritiravano una sorta di torre d'avorio con consumo di sprezzo nei confronti di chi mantenevano un impegno politico un impegno per la militanza e altri compievano un duplice un duplice assumendo un'accezione orientale che la porta può anche sbattere in altre parole che gli sarebbe stato consentito qualsiasi cosa perché uomini superiori uomini fuori dalla norma potevano affrontare la situazione compiendo un certo tipo di operazione altri appunto come dicevo prima invece sostenevano che bisognava dismettere l'impegno politico ma Evola stesso ci dice che non intendeva affatto questo con il discorso della 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 politia ce lo dice sempre in cavalcare la tigre in un passaggio dove testualmente scrive la lotta per la supremazia in mezzo a condizioni che non valgono nulla questa civiltà questa civiltà delle grandi città dei giornali della febbre delle inutilità tale è il quadro che giustifica l'imperativo interiore della politia a difesa del mondo del modo d'essere e della dignità di chi si di chi si di chi sente di appartenere a una diversa umanità è constata intorno a sé il deserto ma non è questo il passo che volevo citare me lo sono perso comunque proprio sostiene Evola che il eccolo qua importo però sottolineare che tale principio la politia riguarda essenzialmente l'atteggiamento interiore la politia il distacco non comporta necessariamente conseguenze particolari nel campo dell'attività pure semplice noi abbiamo considerato la capacità di applicarsi alla realizzazione di un dato compito per amore dell'azione in se stessa e nei termini di una perfezione impersonale e spiega che praticamente lui non intendeva un distacco chi vuole può rimanere nell'ambito di un'azione e di un impegno era sulla base di queste letture di queste interpretazioni di cavalcare la tigre che furono messi a punto questi primi interventi della prima edizione del nostro libro di critica di critica in senso buono del termine e lo abbiamo come ho detto prima ampliato portandolo con i contributi di cui vi ho detto sono contributi molto importanti perché se il primo articolo quello di Alessandra Colla aveva come titolo il veleno e la medicina e quindi proprio metteva a punto la facile interscambiabilità di un elemento un veleno che può essere medicina e una medicina che può diventare veleno e poi affrontando tutta la la questione da un punto di vista filosofico coinnessi e connessi al pensiero nicciano arriviamo al pezzo di Terracciano oltre la foresta di pietra note sulla politica evoliana in cavalcare la tigre e qui a Carlo Terracciano picchia duro proprio su questa malinterpretazione del pensiero evoliano abbiamo poi c'è il pezzo di come ho detto Omar che affronta la questione delle interpretazioni di Evola del pensiero edigeriano e nella seconda parte il pezzo si apre con la parte di De Turris il libro proibito il quale appunto tra l'altro inizia con un bel un bel dire ci dice chi ha comprato di recente l'uomo una dimensione alzi la mano e chi ha letto da poco il libretto rosso cioè dice praticamente Gianfranco De Turris mentre di questi libri che andavano per la maggiore ha riempito le tasche degli editori nel famoso 68 69 ormai si è persa traccia nessuno lo ristampa più sono pieni i magazzini o le discariche o sono impolverati in qualche libreria di sessantenni Carlo Calella Tigre si continua a ristampare di recente è ancora stato ristampato e si occupa il pezzo di Gianfranco De Turris di smontare le interpretazioni e i nessi che si sono voluti fare tra le altre cose non solo di questo con il terrorismo questa coniugazione che è stata fatta tra Cavalcare la Tigre e terrorismo poi abbiamo il pezzo di Alessander Dugin Cavalcare la Tigre semantica di un titolo e qui è molto bello perché Dugin addirittura si concentra sull'utilizzo e sul significato di Cavalcare la Tigre affrontandolo da un punto di vista filosofico alchemico mitico simbolico e fa tutta una lunga discrezione proprio entrando nel merito di quella che è anche la cultura e l'interpretazione orientale e cinese poi c'è il pezzo di Scarabelli in un ciclo dove nulla riluce come fare a riassumere questo pezzo o il pezzo che poi segue di Luca Siniscalco e quello di Francesco Marotta per me è praticamente impossibile un libro che va necessariamente letto e necessariamente meditato tra l'altro a rinforzo di questi interventi poi l'ultimo è quello di Giovanni Sessa che addirittura affronta questa nuova essenzialità di Cavacara Tigre con i meccanismi addirittura e i linguaggi della musica ma non solo con quello evidentemente c'è poi un appendice perché Evola stesso si è in quegli anni lì spesso e volentieri impegnato a cercare di spiegare che cosa intendeva attraverso interviste attraverso in articoli perché alcuni avevano giudicato insufficiente o comunque non sufficientemente comprensibile la sua impostazione quindi a me fatto tutta questa serie questa chiacchierata con parentesi che apparentemente non hanno forse molto collegamento non ho altro da dirvi da suggerirvi invitarvi ovviamente a comprarlo come editore stampatore sono tenuto a farlo vorrei solo chiudere con un'altra citazione una citazione di Evola poi eventualmente noi ci risentiremo perché io non sono stato in grado di fare un sistema un collegamento qui che mi consentisse di avere domande rispondere non sono così tecnologico e quindi sono qui a parlare da solo davanti allo specchio però vorrei chiudere con questa con questa citazione il suo significato eventuale può allora venire precisato nei seguenti termini quando un ciclo di civiltà volge verso la fine è difficile poter giungere a qualcosa resistendo contrastando direttamente le forze in moto la corrente è troppo forte si sarebbe travolti l'essenziale è di non lasciarsi impressionare dall'onipotenza e dal trionfo apparente delle forze dell'epoca tale forze per essere prive di connessione con qualsiasi principio superiore hanno in fondo la catena misurata non bisogna dunque fissarsi al presente e alle cose vicine ma avere anche in vista le condizioni che potranno delinearsi in un tempo futuro allora il principio da seguire può essere quello di lasciare libero corso alle forze e ai processi dell'epoca mantenendosi però saldi e pronti ad intervenire quando la tigre che non può avventarsi contro chi la cavalca sarà stanca di correre e io qui ho sostenuto che in qualche maniera se Evola affrontava queste tematiche che vi ho detto è stato stampato nel 1961 ma dalla documentazione reperita tanto da De Turris quanto da Scarabelli anche nei carteggi con il primo editore editore di Calvacarella Cigliere il testo era già pronto negli anni cinquanta quindi immaginate un pensatore che non poteva soffrire del web di internet tra l'altro paralizzato bloccato in una casa che ha persino rifiutato per anni di avere persino il televisore aveva comunque potuto già nel 1950 affrontare la questione della modernità e come porsi di fronte ad essa noi oggi che siamo in un altro passaggio epocale siamo nel momento in cui la modernità sprofonda e si esaurisce nella post modernità per cui Dugin appunto ha immaginato l'avvento del soggetto radicale colui che quando tutto sarà bruciato sopravviverà a questo sistema in cui non ci sarà più possibilità di ricollegarsi neanche alla tradizione a una narrazione della tradizione in un nichilismo veramente realizzato Nietzsche morto nel 1900 quando parlava di nichilismo diceva che sarebbero serviti duecento anni per essere davanti al nichilismo maturo pensate un po' sono passati cento e vento anni se siamo in queste condizioni che cosa ci aspetta nei prossimi nei prossimi tempi nei prossimi anni comunque sta di fatto che questa Dugin che raccoglie il testimone di Evola dalla modernità e lo porta nella post modernità e quindi andare oltre a dare una conseguenza filosofica filologica metodologica al cavalcare la tigre centrando definendo questo tipo umano di cui parla Evola fin dall'inizio del suo libro quindi questo uomo differenziato che appunto può intraprendere questo tipo di operazione quindi non essere contaminato Dugin dicevo lo porta e lo 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 invera in quello che lui chiama il soggetto radicale colui che all'apparire all'avvento del sole di mezzanotte meridiano zero quando tutti i valori ehm saranno definitivamente implosi esplosi e si sarà raggiunto la fondo del pozzo avrà la capacità di riportare a una in qualche modo un certo tipo di di risurrezione io non so se questo tipo di esposizione così poco accademica così poco professionale possa avervi interessato e coinvolto in una qualche maniera lo capirò nei prossimi giorni e se non sono stato sufficientemente o per niente ehm interessante cercherò o di aggiustare il tiro o mi eclisso e farò altro diciamo che io avevo anche pensato a queste dirette più che altro per un commento dell'attualità ehm avendo appunto la possibilità di interloquire con quelli che in una qualche maniera mi seguono su facebook o attraverso l'edizione o mi interpellano per altre vie quindi avere un dialogo più che altro più che essere io qui a fare un'esposizione indigolare ho tentato non so se vi è apparso piacevole questa miriade di parentesi di interconnessioni ehm che ho fatto comunque me lo farete sapere intanto vi auguro buonanotte arrivederci arrivederci